Ciao ragazzi e benvenuti allo Sweet Gaze Contest Per partecipare a questo contest basta rispondere a tre domande sul video della valigetta Per riguardare il video basta cliccare qui sopra Domanda numero 1 The Girl Question Nell'avvito di quale mano la ragazza porta l'anello? Domanda numero 2 The Sweet Gaze Question Quante aperture ha la valigetta? E infine la domanda numero 3 La porta dell'ascensore è aperta o chiusa? Le tre domande sono semplicissime e si possono lasciare al massimo tre commenti Un commento per ogni domanda Tra qualche giorno farò l'estrazione tra tutti i commenti giusti che sono stati inseriti sotto questo video E la cosa straordinaria è che ci saranno più vincitori che riceveranno un super premio che dirò nel video dell'estrazione dei vincitori Spero che partecipiate in tanti Vi ricordo al massimo tre commenti Il video della valigetta ovvero dei Sweet Gaze di episodio 1 Lo potete trovare anche nel link della descrizione di questo video E ci vediamo all'estrazione dei vincitori E ricordate Clicca su mi piace per partecipare Clicca su mi piace裡面 Clicca su mi piace E ricordo il video E si facẹnmo dan